Eccoci, siamo un'altra volta in linea, quella è la telecamera da guardare? Quella lì. Ok, allora oggi facciamo un piccolissimo video, velocissimo, sono in macchina ma sono fermo, su, diciamo, cosa bisogna fare quando c'hai dietro la polizia con tutti i lampeggianti e ti fanno... Ma tu, paura, panico no? Che devo fare? Allora, innanzitutto metti la freccia a destra e cerchi un posto dove fermarti. E poi metti, tiri giù il finestrino e metti le mani sul volante. Non devi fare nient'altro, sono gentilissimi. Ti avvisano, ci fa guardi che andava un pochettino veloce, non c'aveva la cintura, ti controllano, alle volte ti fanno la multa, alle volte ti fanno tipo un rapportino, un avviso, no? Cioè, guarda che andavi troppo forte e loro ne prendono nota, ma sono molto gentili, quindi basta essere un po' pazienti e va bene. Questo è tutto quello da fare. E se per caso hai un incidente, non è che gli dici, vabbè, prenditi la targa e io intanto me ne vado che c'ho da fare. Ti legano. Se c'è un incidente devi aspettare, chiamare la polizia, aspettare che arrivi, che faccia tutte le sue notifiche, le sue cose, perché non lo so che tipo di reato è, ma è come se tu scappassi dall'incidente, no? Anche se lasci tutti i dati, bisogna proprio aspettare e parlare con l'ufficiale che ti chiede cosa è successo, bla bla bla, e fare tutta la procedura. Quindi, tutto qui, spero che non vi fermi mai nessuno e mi raccomando, se siete italiani che venite in America, in Florida, perlomeno negli altri stati non lo so, ma qua, se ho capito bene, dopo sei mesi, se hai la patente vecchia come la mia, quella rosa, devi rifarla. Devi proprio fare la patente qua. Credo, magari potete informarvi andando a Laci, che se invece, prima di venire giù in America, vi fate fare la patente europea, quella internazionale, quella sulla tipo carta di credito, allora quella lì dura un anno, perché se scadono, passano questi sei mesi o un anno, voi siete senza patente, vi fermano, è penale, cioè, sicuramente ti mandano alla corte, quindi non so che multa, se ti arrestano, qua arrestano facilmente, quindi controllate, state attenti a questi. Benissimo, grazie di tutti i messaggi, non posso adesso fare, c'era qualcuno che mi ha detto saluti i miei miei amici, insomma, ci sono i fans dei fans, me lo devo scrivere, adesso sono in macchina, scappo a lavorare, ci tenevo a fare questo video, ma al prossimo video lo segno e li leggo, e vi faccio gli auguri, ok? Bye bye!